Qual è il segreto di un'azienda italiana con oltre 500 anni di storia? Cosa c'entra Gabriele D'Annunzio con una famiglia che produce armi? La guerra aumenta i profitti o è solo un luogo comune? Tutto questo e molto altro lo abbiamo chiesto a Carlo Gussà Liberetta, la sedicesima generazione di una dinastia senza tempo. Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia ha regola d'arte. Abbiamo oggi, insomma, te in rappresentanza di tutta l'azienda ed è un'azienda che vanta un privilegio importante e anche molto raro. Qual è? Il fatto di essere ovviamente la cosa più importante che è l'azienda manifatturiera più antica del mondo sempre ovviamente sotto il controllo della stessa famiglia. Io rappresento la sedicesima generazione e facciamo parte di un'associazione che è francese, si chiama L'Enoquien, alla quale si può far parte solo se si ha, non mi ricordo quanti anni, ma tanti anni di storia e appunto è sempre la stessa famiglia a seguire ed avere la proprietà e la gestione delle aziende. Attualmente, se non sbaglio, noi siamo secondi perché c'è un'azienda, una famiglia giapponese che c'è dall'800, se non sbaglio, dal 750 e sono alla quarantesima generazione. Loro sono nell'industria alberghiera, quindi leggermente diverso da quello che facciamo noi e noi siamo secondi dopo di loro, però a livello di manifattura siamo i più vecchi. Nel 2026 saranno 500 anni, ci deve essere un segreto, no? Per mantenere un'azienda così solida in tutto questo tempo. Esatto, l'azienda si pensa che sia del 1526 perché abbiamo trovato un attestato che lo certifica. In realtà, questo attestato, che ovviamente è di estrema importanza per la mia famiglia, per l'azienda, si attesta che nel 1526 il mio avo Bartolomeo Beretta ha fornito le canne di Archibugio alla Serenissima di Venezia. All'epoca eravamo infatti produttori solo di canne. Nel contratto si legge che era già maestro e di conseguenza era almeno alla seconda generazione di produzione e di manifattura e quindi probabilmente l'azienda c'è ancora di più, però sì, la data ufficiale è il 3 ottobre del 2026 per festeggiare i 500 anni. E qual è stato il periodo più, il periodo storico magari più florido e quello più difficile per l'azienda anche dai, insomma, dalla storia che conosci e che ti hanno raccontato? È sicuramente difficile sceglierne uno anche perché la nostra industria è molto fluttuante, però ci sono stati alcuni momenti di particolare importanza all'inizio del Novecento, per esempio, più nello specifico nel 1913. Il mio proprio zio, che aveva in testa di trasformare l'azienda da una semplice azienda di artigiani e lavorazioni manuali a diventare una vera e propria industria, ha avuto la lungimiranza di costruire la centrale idroelettrica sul fiume Mella, che è il fiume che attraversa tutta la Valtrompia, territorio alla quale siamo estremamente legati, poi magari ne parliamo un po' più nel dettaglio. Però appunto ha costruito questa centrale idroelettrica che ad oggi genera comunque ancora il 50% di tutto il fabbisogno energetico che ha fabbrica d'armi e diciamo quello è stato un momento storico estremamente importante e poi se devo pensare ad altre cose che hanno sicuramente segnato il nostro passato e ci hanno permesso di crescere costantemente, penso a quando mio nonno Ugo ha deciso nel 1985 di andare in America e aprire la prima azienda per fornire e vincere il bando con gli Stati Uniti d'America per la famosa M9, la pistola 92FS che ha vinto il bando per le forze armate americane. Quello lì sicuramente… Ci sono delle date precise, no? Che segnano poi dei cambiamenti, che segnano delle innovazioni. Anche nella testa di tutta la popolazione, poi l'M9 è diventato un oggetto di stile iconico a tutti i livelli. Al dente diciamo che questo podcast ha anche l'obiettivo di informare i giovani e il nostro pubblico su determinate tematiche, però partiamo da, diciamo, la nostra mamma che è eccellenza italiana e siamo molto curiosi di sapere che rapporto c'è e cosa c'entra un personaggio noto come Gabriele D'Annunzio con la famiglia Beretta, l'azienda Beretta, perché sappiamo che nel logo ci sono tre frecce racchiuse in un cerchio e sappiamo che c'è un legame particolare, c'è un aneddoto preciso che io poi sono andato a informarmi, so già, però vorrei farlo raccontare a te giustamente. Grazie, è una storia, sì, super interessante e divertente. Sostanzialmente D'Annunzio commissionò a questo artista austriaco Guido Marussig quello che oggi conosciamo come il logo Beretta, il tridente, le tre frecce che attraversano i tre cerchi e se si va a visitare il vittoriale degli italiani, infatti all'ingresso si trova una grossa lastra di marmo rappresentato il logo Beretta e sotto c'è scritto dare in brocca che vuol dire colpire il centro. Mio prozio Giuseppe Beretta in visita, conoscente, amico di D'Annunzio, in visita al vittoriale un giorno notò questo logo e D'Annunzio glielo propose come logo della sua azienda. Dice questo qua rappresenta colpire il bersaglio, colpire il centro, quello che fanno le vostre armi che sono rinomate in tutto il mondo per la loro precisione, affidabilità, eccetera, e quindi questo logo dovreste adottarlo voi. Nello specifico le tre frecce rappresentano i tre colpi che venivano sparati alle navi nemiche. Il primo colpo che va alla poppa della nave come insegno di avvertimento, il secondo alla prua e il terzo centrale per affondare la nave. Prima citavi appunto il Val Trompia e il legame anche un po' con il territorio che vi ha contraddistinto in tutti questi anni e che ancora, insomma, è molto forte, no? Il legame della vostra azienda con il territorio. Perché siete rimasti sempre così legati? Cioè c'è un'importanza ovviamente immagino strategica nella valle delle armi come viene definita, no? Sì, assolutamente. Tutti i giorni siamo fieri di essere made in Val Trompia, 100%. Nel Bresciano, lo ricordiamo insomma per tutti. Assolutamente, sì. Allora, è una cosa, sicuramente è una cosa storica. Da un sacco di anni la Val Trompia è famosa appunto per essere la valle delle armi dove una grandissima percentuale delle armi prodotte nel mondo infatti viene proprio da lì. Storicamente era dovuto al fatto che la valle aveva anche delle caratteristiche appunto per favorire questo genere di manifattura. in primis le miniere con il ferro ovviamente estremamente importante per la produzione di armi dopodiché c'è il fiume Mella che citavo prima che dà l'energia e ha dato a tante altre aziende l'energia per produrre e poi penso che la cosa più importante della valle sono le persone alla quale noi siamo estremamente legati e hanno una mentalità che sinceramente non ho mai visto da nessun'altra parte al mondo e impegno, dedizione e soprattutto legame con l'azienda, con la nostra ma anche con le altre del territorio è tutta gente che veramente tutti i giorni va a lavoro con un obiettivo con l'obiettivo di far bene e con una passione per quello che fa quindi sicuramente anche il capitale umano che la valle ci fornisce è uno dei motivi principali per cui siamo lì siete rimasti così tanto legati e lo saremo per sempre da un punto di vista logistico è ovvio che non è ideale però per quello che ti ho appena raccontato appunto sono sicuro che l'azienda non si sposterà mai da lì stai insistendo tra virgolette in senso positivo molto anche sulle caratteristiche delle persone che fanno il territorio nel corso degli anni voi siete appunto un'azienda con una storia pazzesca e diciamo che le persone, quella mentalità di cui parli arriva poi, il capitale umano arriva poi a dare anche tutto diciamo a mettere tutti questi valori anche nei prodotti che andate a creare quindi parliamo adesso di artigianalità del prodotto che cosa ci puoi raccontare in questo perché siete diversi rispetto agli altri che cosa vi fa vincere no? questa è sicuramente una delle cose che mi piace di più della nostra azienda il fatto che da una parte abbiamo una produzione allo stato dell'arte con meccanismi di innovazione tecnologica in tutti gli aspetti e dall'altra invece è rimasto quello che è l'artigianalità il fatto a mano eccetera eccetera mio padre mi racconta sempre che quando lui aveva la mia età suo papà e il suo prozio gli dicevano sempre va in Beretta 2 che Beretta 2 è praticamente dove vengono fatti i fucili a mano va in Beretta 2 a vedere il lavoro che fanno gli artigiani che fanno quelli che lavorano a legno che fanno gli incisori perché fra 50 anni probabilmente quel lavoro lì non esisterà più perché ovviamente nella sua testa veniva tutto sostituito da macchinari da macchine più grosse sempre più evolute esattamente fortunatamente quel segmento lì è rimasto e ovviamente per noi è importantissimo come sono importantissime le persone che ci lavorano dentro tant'è noi in Beretta 2 abbiamo la produzione di quello che noi chiamiamo PB Selection ovvero l'alto di gamma l'alto di gamma che in realtà fa da ombrello a tutti i segmenti che noi forniamo e produciamo dal mondo della caccia al mondo del tiro al mondo del tattico e il PB Selection è tutto quello l'altissimo di gamma fatto a mano legni di qualità assoluta incisioni con mille ore di lavorazione tutto made in Italy tutto ovviamente made in Italy tranne i legni che quelli li prendiamo dalla Turchia che è da paesi adiacenti che il noce di quella zona lì è il legno più adatto per l'utilizzo del fucile parlando proprio di risorse di risorse però ovviamente ha lavorato internamente anche abbiamo lì nel dipartimento del PB Selection abbiamo per esempio anche la parte di valigette fatta a mano anche quella tutta con pelle made in Italy e ce la abbiamo da poco tempo ma fa parte dell'offerta che diamo al nostro cliente PB Selection avere la possibilità di customizzare al 100% la valigetta all'interno del quale ci sarà il suo fucile e come ti dicevo siamo super fortunati ad avere ancora queste persone che lavorano a secondo me delle vere e proprie opere d'arte tutti i giorni ed è bellissimo sentire anche la storia di alcuni di questi ragazzi qua che intanto è impressionante quanti ragazzi giovani ci sono che non è una cosa scontata perché sui lavori così manuali uno pensa che stiamo andando insomma verso un'altra direzione in verità invece fortunatamente sempre tornando al discorso del legame con la valle e del territorio riusciamo con l'educazione e i corsi offerti ai licei e alle università ad attirare i talenti e... e a insistere anche un attimino sulla cultura che sta dietro a un'azienda come la vostra la cosa davvero affascinante di quando vado a fare un giro in incisoria o a vedere i ragazzi che fanno la zigrinatura dei calci che tipicamente sono sia il tema della... sia la parte della zigrinatura che molti degli incisori in realtà sono ragazze perché hanno una manualità spiccata rispetto ai maschi quindi ci sono anche tante donne al lavoro soprattutto nella parte... a livello aziendale nell'assemblaggio e in generale tutta la parte più bi-selection gran parte sono ragazze questo ci tenevo a fartelo uscire come concetto perché magari non è una cosa a cui uno pensa subito uno pensa all'industria delle armi sono veramente bravi nel lavoro che fanno e poi dicevo è super interessante vedere che alcuni... la maggior parte anzi di questi ragazzi che lavorano sono alla seconda o terza generazione di quella professione specifica cioè il padre gli ha insegnato a incidere quando erano giovani e il nonno al padre eccetera eccetera motivo per cui abbiamo detto prima che c'è una cultura una storia, una dedizione a questo tipo di settore assolutamente sì quante armi produce al giorno Beretta? al giorno... circa immagino poi dobbiamo fare una distinzione tra quello che è fabbrica d'armi quindi l'azienda di cui abbiamo parlato fino ad ora e il gruppo Holding attualmente produciamo 1700 armi al giorno che sono circa 400.000 all'anno in fabbrica d'armi a Gardone proprio che escono da lì tu rappresenti la sedicesima generazione della famiglia e quando pensi... hai una grandissima responsabilità innanzitutto immagino anzi possiamo affermarlo quando pensi al futuro perché tu poi cioè arrivato no fatta diciamo la tua carriera fatta la tua strada penserai, ti farai delle domande ogni giorno sul futuro dell'azienda sulla dinastia Beretta che cosa pensi? è una grande responsabilità ma anche un grande onore e mi ritengo davvero fortunato per l'approccio che hanno avuto i miei durante la mia crescita la mia educazione le mie esperienze lavorative non sono... non mi hanno mai fatto sentire la pressione di dover andare a lavorare in azienda per forza dover seguire una strada molto specifica mi hanno sempre detto fai quello che vuoi studia quello che vuoi ovviamente testa sulle spalle però questo l'ho apprezzato moltissimo e ti ha forse permesso di avvicinarti anche in maniera un po' più rilassata e tranquilla e senza forzature come dicevi e con seguendo la strada che interessava a me ovvero io dopo aver fatto economia e commercio qua a Milano sono ho fatto varie esperienze di lavoro nel mondo delle risorse umane perché è una cosa che mi interessa molto risorse umane e marketing soprattutto e tant'è che sono entrato in azienda un paio di anni fa durante durante la pandemia subito dopo la pandemia con un focus su il mondo HR e marketing e comunicazione ognuno di noi io vedo tutti i miei antenati anche mio padre mio nonno eccetera ognuno ha avuto degli obiettivi importanti nella carriera mio nonno sicuramente si è concentrato sull'internazionalizzazione quindi uscire dall'Italia andare a conquistare mercati esteri in particolar modo l'America con il famoso contratto di cui parlavamo prima dell'M9 l'esercito americano mio papà quando è entrato in azienda aveva in testa di completare l'offerta al cliente in tutti i sensi quindi ha iniziato a spingere molto sul mondo dell'abbigliamento e degli accessori e poi sono state fatte delle acquisizioni strategiche per esempio tutto il mondo delle ottiche per appunto completare l'offerta al cliente sono davvero fortunato che mio padre abbia questa apertura mentale e propensione verso l'utilizzo del digitale delle nuove tecnologie in azienda perché sicuramente non è da tutti e anche questo sta dando una spinta quindi state investendo tanto diciamo anche in tecnologia digitale assolutamente sì attualmente investiamo circa 10 milioni all'anno solo in ricerca e sviluppo tutti gli anni però in generale tutti i processi che abbiamo in azienda vengono quasi tutti vengono digitalizzati e per cercare di avere di renderli ancora più efficienti e anche per me questa è una è una sfida enorme e una delle cose su cui mi sto focalizzando adesso è sul tema appunto del marketing e della comunicazione di capire come andare a comunicare con un audience diversa da quella che è la nostra audience attuale cioè come parlare ai giovani e come fargli capire come informare come dicevamo anche prima assolutamente immagino perché che comunque è un argomento per certi versi per certi versi anche delicato no riuscire eticamente anzi uscire eticamente corretti in certi ambiti immagino insomma quello poi è un tema che magari andiamo a snocciolare più avanti ma invece curiosità mia hai detto due anni e mezzo circa fa sei entrato ufficialmente in azienda e invece quando hai iniziato tuo papà a dirti semplicemente guarda vai a vedere che cosa succede guarda come quello da sempre quello da sempre da che mi ricordo sia in azienda a Gardone ma anche in tutte le aziende del gruppo cioè mi ricordo già quando ci avevo 14 anni che lo stabilimento in America lo conoscevo a memoria e adesso ci sono abbiamo fatto tante acquisizioni ci sono tante aziende che fanno parte del gruppo e quindi anche anche questa è una grossa opportunità per me continuo a viaggiare vado a vedere tutte le aziende gli stabilimenti che ogni ogni viaggio imparo qualcosa di nuovo certo immagino che comunque sia poi non dico automatico però viene viene spontaneo appassionarsi a un settore quando comunque hai una famiglia come il papà il nonno insomma tutti gli antenati anche che citavi prima avvicinarsi assolutamente io anche in quello mi reputo fortunato perché sono anche appassionato di quello che facciamo non è scontato però non 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 mi piace solo lavorarci in azienda ma mi piace anche usare i nostri prodotti e tant'è che è soddisfacente immagino assolutamente sì ma soprattutto quando si fa parte del processo poi dopo veder nascere un qualcosa di concreto è una soddisfazione unica cosa pensi quando un'azienda del made in italy passa in mano straniera è sicuramente un peccato è un peccato perché quando si sentono le notizie di appunto eccellenza italiana che passano in mano a un gruppo straniero mi dispiace perché secondo me il il valore che noi italiani sappiamo dare ai prodotti che creiamo è inimitabile in tutto il mondo detto questo si possono fare delle eccezioni mi viene in mente il caso di Loro Piana per esempio che è stato comprato dalle WMH che è uno dei cioè il gruppo più grosso del lusso nel mondo dove però vedo che comunque quella qualità e l'artigianalità che è rimasta esatto viene messa nei prodotti è rimasta è proprio perché rappresenta un valore aggiunto alla fine le nostre capacità vanno all'interno dei loro prodotti e quindi rimangono un'eccellenza anche se a livello di proprietà purtroppo sono passati di mano prima parlavamo di esportazione e quindi noi sappiamo che l'azienda Beretta ha un fatturato generato principalmente dagli Stati Uniti è così allora nel dall'America nel 2022 un terzo del fatturato totale viene dall'America e dal Nord America e poi dopo si fa una una distinzione tra quello che è il mercato civile il mercato militare di difesa e l'anno scorso due terzi di tutto il nostro fatturato il fatturato totale quindi quant'è? nel 2022 è stato 317 milioni di cui due terzi per tutto quello che è il mondo civile quindi caccia e tiro sostanzialmente e il resto invece è la parte militare di difesa e di law enforcement parlando quindi di mondo civile pensiamo alla caccia un argomento ovviamente anche delicato però sappiamo che ci deve essere per forza insomma una connessione molto forte tra l'azienda e il settore della caccia ci puoi sfatare anche qualche luogo comune ma il rapporto dell'azienda com'è? allora il luogo comune principale ce ne sono tanti immagini ce ne sono tanti però sicuramente è quello che la caccia fa male all'ambiente ed è assolutamente sbagliato pensare questo perché in realtà è l'esatto opposto noi come azienda ovviamente diamo una grandissima importanza a tutto il mondo della caccia e siamo per una caccia sostenibile quindi tutto quello che è bracconaggio che purtroppo nella testa di molti è la caccia in generale ovvero andare a caccia in una maniera non controllata eccetera noi lo lo condanniamo senza se senza ma quindi in concreto l'azienda che cosa fa? noi cerchiamo sempre di lavorare con associazioni l'esempio più lampante che mi viene in mente è Fondazione Una che si impegna a mettere insieme ambientalisti chi lavora con gli agricoltori e i cacciatori verso un obiettivo comune uno scopo comune ovvero della conservazione e anche della promozione della filiera alimentare io per esempio quando vado a caccia alla fine della giornata mi sento soddisfatto perché so che la carne che mangio è di un animale che ho cacciato io di un animale che ha vissuto in libertà e non in allevamenti intensivi come molte delle cose che troviamo al supermercato spesso può anche capitare di tornare da una giornata di caccia a mani vuote ma in realtà non c'è niente di male perché contrariamente un po' a quanto uno pensi assolutamente ma dopo una giornata fuori con il contatto vero con la natura farsi una passeggiata di 15-20 km tornare stanchi soddisfatti alla fine sono queste le cose che contano e che personalmente mi arricchiscono che poi tu sia da solo con gli amici ancora meglio però in generale la giornata di caccia per me è un'esperienza possiamo utilizzare questo termine e va a contrastare quello con cui siamo abituati al giorno d'oggi alla frenesia che c'è nelle città e infatti una delle cose belle della caccia secondo me è anche a livello mentale non solo fisico i benefici che può dare quindi l'immersione nella natura la disconnessione con la tecnologia lo smartphone e tutto quello che insomma siamo abituati lo dico anche con un po' di fiatone a utilizzare a vivere ogni giorno parlando invece sempre di mondo civile citato prima a me vengono in mente anche i giochi olimpici tra l'altro l'anno prossimo quindi nel 2024 insomma ci saranno a Parigi e so che c'è un legame forte l'hai detto tu prima ma qual è? cioè raccontacelo un po' il legame che c'è magari anche poi direttamente con i tiratori quello che fate a livello di supporto non solo sulla produzione delle armi ecco in generale tutto il mondo sportivo del tiro a volo piattello che sia trap e skit che sono le principali discipline olimpiche ma anche il mondo dello sporting quindi piattelli percorso caccia eccetera sono ovviamente estremamente importanti per noi noi abbiamo questa connessione speciale con le olimpiadi dal 1956 se ricordo bene il primo anno in cui abbiamo partecipato alle olimpiadi a Melbourne e abbiamo vinto la prima medaglia d'oro da lì da quell'anno ci siamo sempre impegnati a dare i nostri prodotti i nostri fucili ai tiratori olimpici e le ultime due edizioni sono andate veramente molto bene perché io tra l'altro sono andato alle olimpiadi di Rio e ho seguito tutte le gare di trap double trap e skit e lì abbiamo vinto 10 delle 15 medaglie che c'erano in palio quindi risultato ottimo e i nostri atleti sono stati veramente fenomenali e anche a Tokyo dove abbiamo fatto 9 su 15 medaglie quindi comunque un ottimo risultato di cui 3 ori 3 argenti e 3 bronzi abbiamo siamo super soddisfatti e ovviamente adesso la prossima grande sfida è Parigi nel 2024 i nostri tiratori si stanno allenando e le ultime due edizioni hanno sparato con il DT11 che è una delle nostre cioè è la nostra piattaforma che ha avuto più successo in quel mondo lì tant'è che è il fucile al mondo che ha vinto più medaglie olimpiche e quindi avete un rapporto anche abbastanza stretto diciamo con gli atleti con gli atleti con i tiratori assolutamente sì cioè sono oltre ad essere atleti che sparano con il nostro fucile sono anche i nostri ambass adoro tutti gli effetti perché condividono quelli che sono i nostri valori e la nostra missione e quindi è davvero un grande piacere e onore potergli dare l'oggetto che gli permette appunto di vincere le medaglie quello poi insomma per quanto Beretta la vostra azienda può dare a dei tiratori olimpici il meglio poi entra in gioco anche l'abilità no? Certo lì lì vi dico solo io quando sono andato a vedere Rio 2016 sono tornato pensando di poter andare alle olimpiadi cioè io ho visto i tiratori sparare ho detto bene adesso torno faccio due anni dove mi alleno e vado a fare le olimpiadi dopo tipo due settimane che ho iniziato ho capito che non sarei mai andato alle olimpiadi perché è veramente sembra facile quando sparano loro quando vedi loro sparare sembra tutto tutto semplice ma in realtà ci vuole una concentrazione e la cosa impressionante in questa disciplina è qual è la cosa determinante esatto per poter avere successo la testa la testa cento per cento quindi viene ancora prima dell'abilità secondo te secondo me gli atleti che arrivano a fare le olimpiadi sono tutti sono tutti bravi uguali però chi vince e fa 25 su 25 è perché c'è qualcosa di più a livello mentale di concentrazione arriva in pedana e non esiste il resto del mondo non esiste è concentrato al cento per cento e spacca quel piattello quindi tu ogni tanto vai io vado però in quelle discipline lì magari uno dice sparo faccio 23 su 25 sono bravo sì però per essere un campione devi fare 25 su 25 e devi farlo tutte le volte non è che ci sono via di mezzo certo quindi andrai anche nel 2024 a seguirli i giochi olimpici assolutamente sì purtroppo a Tokyo non sono potuto andare perché c'era il discorso del covid le carte cioè non era non era semplice anche se mi sarebbe piaciuto molto però il a Parigi assolutamente sì andrò a sostenere i miei e spero di portare bene come ho portato a Rio che abbiamo vinto un sacco di medagli speriamo facciamo anche noi di eccellenza italiana di al dente un in bocca al lupo parlando sempre dell'utilizzo delle armi non solo in America dove abbiamo visto che insomma c'è la maggior parte dove è generato la maggior parte del fatturato pensiamo anche alle forze armate di polizia in tutto il mondo puoi farci qualche esempio di forza armata di polizia che utilizza le armi sicuramente partirei dall'Italia perché dal 1915 che è quando è stata creata la prima pistola semiautomatica che si chiamava appunto 1915 in Beretta la nostra azienda e le forze armate del paese hanno sempre lavorato insieme attualmente forniamo tutte tutte le forze dell'ordine dai carabinieri alla polizia ai militari alla guardia di finanza e anche all'aeronautica militare che peraltro quest'anno fa 100 anni li riforniamo tutti con i nostri prodotti in base alle loro esigenze mi viene in mente i carabinieri per esempio gli abbiamo gli abbiamo fornito la PMXS che è la nostra mitraglietta semiautomatica in calibro 9 che utilizzano in moltissimi dei loro dipartimenti però in generale sicuramente il rapporto tra Beretta delle forze dell'ordine italiane c'è sempre stato e mi auguro che sempre ci sarà dopodiché ce lo auguriamo anche un po' tutti ce lo dico anche perché è un concetto insomma della sicurezza un po' di tutti altra cosa da dire molto importante ritornando poi per esempio al contratto con l'America da quando è stato firmato il contratto per la fornitura delle pistole calibro 9 all'esercito americano anche quello ha dato il via ha un legame con gli Stati Uniti molto forte sia nel mondo dell'esercito ma anche per dire con tutte le varie polizie delle città e i distretti che hanno voluto adottare la stessa la stessa pistola dell'esercito americano e poi ovviamente ci sono il mondo del militare è un po' diverso da quello civile perché varia di anno in anno in base appunto alle commesse ai bandi che si vincono stiamo parlando tanto di Italia giustamente anche insomma vista l'origine proprio dell'azienda Beretta parlando invece della cultura delle armi e pensando agli Stati Uniti quali sono le differenze le similitudini che trovi sicuramente sicuramente le differenze ce ne sono parto dagli Stati Uniti dove esiste il secondo emendamento che è stato costituito alla fine del Settecento che protegge chi porta con sé armi e quindi è una cosa proprio nella cultura degli americani dopodiché c'è il diritto costituzionale a tutti gli effetti dopodiché c'è chi è pro e chi è contro però è una cosa radicata proprio nella cultura dell'America in Italia è diverso perché se penso alla cultura delle armi in Italia principalmente oltre al mondo della difesa mi viene da pensare al mondo della caccia e chi pratica l'esercizio venatorio e al mondo del tiro quindi strettamente legato a queste due discipline e in Italia non è assolutamente scontato non è facile avere accesso a armi e poterle utilizzare ci sono degli esami tosti e dei controlli molto severi su chi possiede e chi utilizza armi ed ovviamente è tutto super ipercontrollato e di conseguenza sicuro su tutti i livelli diciamo ecco quando pensiamo insomma all'America a volte sentiamo parlare spesso di stragi non pensi si dovrebbe limitare l'utilizzo quando sento queste notizie al telegiornale eccetera mi sento veramente triste umanamente triste e allo stesso tempo penso che la responsabilità sia di chi c'è dietro all'arma dietro allo strumento alla fine l'arma nella mia testa è uno strumento è un oggetto inanimato che quindi non può avere la responsabilità che ha una persona sempre dietro esatto come può avere come può succedere quando si sente parlare di incidenti stradali con persone ubriache alla guida che uccidono non è la responsabilità della macchina ma è appunto di chi c'è dietro allo strumento di chi ne fa uso in proprio ti imbarazza vendere vendere armi la mia risposta si collega sempre con quello che ti ho appena detto l'arma è un oggetto che viene utilizzato per fare del bene e per la difesa e la sicurezza della popolazione dopodiché se viene utilizzata da persone che hanno scopi diversi e di fare del male è un altro discorso però il produrre le armi nel mio caso non vedo perché dovrebbe imbarazzarmi in alcun modo pensando a un altro luogo comune a un concetto anche tra virgolette normale per l'italiano medio l'uomo medio è quello che la guerra aumenta i profitti di un'azienda come la vostra in realtà non è così no direi proprio l'opposto faccio l'esempio che mi viene in mente del conflitto attuale che c'è tra Ucraina e Russia nel 2014 l'anno in cui ci sono state le prime sanzioni nei confronti a Russia da parte dell'Europa abbiamo avuto il divieto di fornire armi militari alla Russia appunto e più nello specifico adesso da un paio d'anni da quando è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina appunto abbiamo avuto il divieto totale di mandare armi sia per uso militare che civile sia in Ucraina che in Russia come entrassero proprio in una sorta di black list in realtà la maggior parte del nostro fatturato era solo per il mondo civile di cacciatori e tiratori ucraini e russi e da quando c'è stato lo scoppio della guerra non ci è più permesso mandare armi quindi è proprio l'opposto di quello che si pensa al giorno d'oggi allora intanto grazie perché nella chiacchierata abbiamo snocciolato vari temi molto importanti e anche in molti luoghi comuni prima di salutarci per chiudere vorrei chiederti come vedi il futuro di Beretta sicuramente avrai degli obiettivi personali ma avrai degli obiettivi aziendali sicuramente il futuro di Beretta rimane a Gardone Valtrompia come dicevo prima è una certezza esatto siamo super legati al territorio anche da un punto di vista di fornitori per esempio il 50% dei nostri fornitori opera nei 25 chilometri dall'azienda quindi in un raggio ben preciso sì assolutamente sì e questo è un grande orgoglio perché poi noi condividiamo con i nostri fornitori italiani e non gli stessi principi di etica le stesse missioni e quindi è davvero bello avere una filiera così stabile così dedicata a noi dopodiché per quanto riguarda il futuro di Beretta mi sento di dire che mi aspetto e mi immagino una crescita costante e omogenea partendo sempre da quello che è il capitale umano alla quale diamo un'importanza enorme ma anche dall'innovazione tecnologica digitale e industriale che tutti i giorni avviene in azienda io attualmente come obiettivo principale mi sento di dire che ho quello di coinvolgere i giovani coinvolgere i ragazzi della mia generazione ad apprezzare quello che facciamo e ad apprezzare tutto quello che è il mondo Beretta in tutti speriamo anche tramite al dente insomma che siamo riusciti ad appassionare tanti giovani speriamo di sì poi un'altra cosa che ci tengo a dire è che io mi reputo molto fortunato a lavorare in azienda in Beretta perché è una delle poche aziende forse l'unica al mondo nell'industria armiera che serve tutti i segmenti di mercato come accennavo prima dal mondo civile quindi caccia e tiro e al mondo militare noi ci impegniamo a fornire il meglio a qualsiasi cliente possiamo raggiungere parlando invece di obiettivo personale mi spingo io un po' oltre dico lavorerai sulla diciassettesima generazione della famiglia Beretta assolutamente sì mi impegnerò a consegnare l'azienda alla diciassettesima generazione con delle radici profonde solide che è quello che è stato dato a me e allo stesso tempo un'azienda moderna dove l'innovazione tecnologica industriale è sempre al centro del progetto e quindi con un futuro mi auguro assicurato direi che sono insomma obiettivi ambiziosi noi di eccellenza italiana ti auguriamo vi auguriamo il meglio grazie per essere stato ai nostri microfoni grazie a voi vi ringrazio in particolar modo perché spero di aver potuto esprimere quello che facciamo i valori che mettiamo nel nostro quotidiano nei nostri prodotti e spero che anche la vostra audience possa insomma apprezzare quella che è la nostra realtà diciamo che abbiamo cercato di così tirar fuori dei concetti molto grossi al dente come piace farlo a noi ringraziamo Carlo Gussà Liberetta e grazie ancora tanti auguri grazie mille